Ragazzi, ebbene sì, è storia! Il Napoli è ai quarti di finale della Champions League per la prima volta nella sua storia. E quest'anno capita anche che tre squadre italiane si sono qualificate ai quarti di finale e non capitava dal 2006 quando si qualificarono Milan, Inter e Juventus. Domani ci saranno i sortici. 17 marzo, ore 12. 8 squadre, ho preparato l'urna con i bigliettini. Faremo la simulazione del sorteggio dei quarti di finale della Champions League. Grazie a tutti. 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 stimolazione del sorteggio fatta quindi questi sono gli incruci Real Inter Chelsea Bayern Napoli Benfica e City Milan chissà domani cosa succederà vedremo piaciuta questa simulazione? il Napoli ha beccato il Benfica che ne pensate? fatemelo sapere nei commenti ciao e in bocca al lupo a tutte le italiane forza Napoli sempre